to no 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 no! ehi! tanto di aspettammi! o no! vado alla parte sbagliata! se non lo fermiamo opinerà! sfortellando! come una pritella! gas cooperation fate cadere un binario sull'altro così lo dilotteremo Bene. Ci serve anche qualcosa come una corda per fermarlo. Vado. Non ce la facciamo, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Oh tavolo! Però abbiamo cenato. Oh no! Liquirizia? Questo ho trovato. Ehm, ok. Steve, spara la Boomer, lo rallenterà. Ricevuto! Boomer, afferra la corda! Ok! Distanza 400 metri, vento, tre nodi da sud ovest, pronto! Aiuto, 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 aiuto! Tiro! Forza! Fuoco! Fuoco! Cavolo! Beh, non ha funzionato, no? Davvero? Oh, fermatemi! Potremmo attraversare tutti. Ok ragazzi, tirate! Forza! No, 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 aiuto! Sta diventando un inaspettato sviluppo degli eventi per tutti noi. Concordo! Oddio, l'impatto! Pronto a svegliarmi, pronto a svegliarmi, pronto a svegli... Ma tu sei sveglio! Sono sveglio? Cioè, sono sveglio!